Segretario Salvini, si prepara la battaglia autunnale dei sindaci contro il patto di stabilità, ne hai incontrati anche alcuni oggi qui, e cosa è emerso? È emerso che in Lombardia non ne possiamo più, anche perché i soldi li abbiamo, li abbiamo nel cassetto, le chiavi del cassetto sono a Roma e basta, sono almeno 6 miliardi di euro di soldi risparmiati dai sindaci lombardi, non leghisti, è lombardi di destra, di sinistra, liste civiche, lega, e quindi stiamo preparando una grande mobilizzazione che li coinvolga tutti, perché con quei soldi si potrebbero fare case di riposo, asili nido, scuole materne, aiutare chi è in difficoltà, i disoccupati, gli esodati, asfattare le strade, fare impianti sportivi, quindi sono soldi dei lombardi fermi per volere di Roma. La prima iniziativa sarà l'ultimo weekend di ottobre, 25, 26, 27 di ottobre, in tutti i 1500 comuni di Lombardi, dove la Lega c'è e dove la Lega non c'è, perché ripeto, è un discorso di buonsenso, di Lombardia e di 100.000 posti di lavoro che si metterebbero in ballo con questi soldi fermi, perché Roma ha deciso di fermarli. Con quale modalità farete dei gazebo, in che modo? Faremo delle assemblee pubbliche in tutti i comuni, piccoli e grandi, in cui spiegheremo agli abitanti di questi comuni quanto versa il loro comune di Irpe fa Roma e quanto da Roma torna indietro, quanti dipendenti ci sono in quel comune paragonati a un comune di pari abitanti al sud, e i numeri sono ahimè deliranti, e quanto c'è nel cassetto di quel comune come risparmio, e che cosa si potrebbe fare con quel risparmio, ripeto, in quel comune stanno bloccando la farmacia, la casa di riposo, l'asilo nido, le telecamere di controllo, quindi ogni comune ha la sua storia, però sono soldi dei cittadini Lombardi, quindi una mobilitazione non della Lega, ma della gente lombarda che vuole spendere questi soldi. Se Roma ci risponderà di sì bene, se ci risponderà di no, saremo un po' meno educati. Ha ricevuto delle elementi anche da parte dei sindaci di centro-sinistra? Sono soldi fermi, l'asilo nido non è di destra o di sinistra, l'asilo nido è l'asilo nido, quindi ci vanno i bimbi di tutti i colori, di tutte le razze, di tutte le religioni, con i genitori che votano di qua e votano di là, quindi se la Lombardia si ricorda di essere Lombardia e pretende di spendere quello che ha risparmiato, è meglio per tutti.